Continua questa dinamicità autunnale, questa dinamicità dettata dalle correnti atlantiche, quando poi queste correnti atlantiche entrano nel cuore del Mediterraneo da sud ovest e da nord ovest verso sud est il tempo sull'Italia può diventare cattivo perché si pesca nel cuore del Mediterraneo, queste correnti pescano nel cuore del Mediterraneo, attivano venti tempestosi di libeccio, carichi di energia che poi possono sfociare anche in eventi estremi, in eventi alluvionali come è successo ad esempio in quel di Prato con epiloghi anche tragici. Non è un'anomalia avere un tipo di tempo così perturbato, così cattivo in Italia durante il corso dell'autunno proprio per quello che vi ho appena detto. Casomai bisognerebbe fare prevenzione, ormai abbiamo tutto che ci permette di fare una previsione anche a 72 ore, sappiamo il tipo di tempo che ci aspetta, probabilmente dovremmo essere un po' più brave a fare prevenzione. Prima che gli eventi accadano. Detto questo passiamo alle cose di casa nostra, passiamo al tempo del weekend sull'Abruzzo, onda stabilizzante sabato, onda perturbante domenica. Quindi la giornata di sabato a parte un pochino di incertezza al primo mattino sui settori occidentali, nel suo complesso sarà variabile, cielo da parzialmente ad irregolarmente nuvoloso, più aperto il cielo andando verso la costa. La ventilazione soffierà da ponente e da ovest al più moderata, mare mosso e le temperature in diminuzione nei valori minimi in leggera ripresa in quelli massimi. Però occhio perché sarà proprio dalla notte, tra sabato e domenica, già dalla tarda serata di sabato, ma poi soprattutto nella notte e al primo mattino di domenica, una nuova perturbazione interesserà il nostro Bruzzo, torneranno le piogge, i temporali, questa volta le nevicate solamente in cima, verso il Corno Grande, perché questo peggioramento sarà accompagnato interamente dal vento di Libeccio, vento di Libeccio che tornerà a soffiare anche in maniera intensa, di forte intensità. Poi durante il corso della domenica stessa questa perturbazione tenderà a lasciare il nostro Bruzzo, poi infatti nelle successive ore, dopo il mattino, la tendenza è un graduale miglioramento in tutta la regione. Vento da Libeccio, ve l'ho detto, tornerà a soffiare forte, passata la perturbazione entrerà il ponente, il vento da ovest, il mare risulterà molto mosso e le temperature domenica risulteranno in aumento nei valori minimi, leggermente diminuzione rispetto al sabato nei valori massimi.